e vabbè e vabbè si, ciao ciao bibbi siamo legati un po' impossibilità di muoverci ci stiamo legando ancora e nella bellissima sfida di oggi così vince chi riesce a districarsi da questa roba cioè da scappare per prima io già non vedo un cazzo da un'altra quantità se la faremo a slegarci? no io cascherò per prima bene lalalalalala nooo oh no ahahah 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 di luca il perigolo e scappi, metti anche tu il piede qua ahahah si guarda a mu lalalala ahahah grazie aspetta adesso ma come cazzo ti infili qua? ahahah 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 si è staccato beh ho vinto no non hai vinto un corno si no così mi strozzi siamo tornati a primo e che palle come fai? eh eh scusa si e poi ho le mani io qui ahahah il primo che ci insulta dicendo eh questione di fisica gli sputo in faccia dentro eh ma come si fa impossibile no perchè è anche più piena ma non lo puoi rimarremo così da tutta la vita questa no aspetta siamo legati da questo filo ma non so non so non so blu e nero no non puoi ahahah facciamo ahahah allora no no ci vuole ho le carte dai le accorgi no no cosa fette lancio una palla no ma no è come prima oddio no ahahah 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 ci stiamo saprendo e ahahah 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 pescullino ahahah 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 hai qualche altra idea? quella di tagliarci del braccio? no 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 perchè no 27 una mano alla sentubola ahahah 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 ho detto il filo del destino è il lastrino del destino il nastrone questo è Non so come abbiamo fatto prima Siamo liberi Raghi ce l'abbiamo fatta We Bene, ciao Vado a prenderla Vieni qua a ringraziare Per aver visto questo bellissimo E fantastico interattivo video Giocate a Genshin Impact Questa è la spazio Fateci sapere a proposito Se siete interessati magari filmiamo Una live mentre giochiamo a Genshin Che ne so Sì, per vedere quante volte muoio Spero sia piaciuto questo video E ci vediamo alla prossima challenge Hai fatto tutto da mente Ho sperato che io non ho detto una po' a Lascio la scena Dai, ammalia i tuoi ammiratori Con il tuo charme Mi prende, guarda Oh, bezza Sei tu la mia amice Da quando? È la mia candela nella notte Ah, pensavo mi dicevi che sono la tua cantina È la mia cantina È la mia candela nella notte Quando vado in cantina Cioè, ti appiccio No, grazie Grazie di aver guardato questo video Sempre molto Spezzante Di stronzate Ci vediamo al prossimo No, non ci vediamo al prossimo Grazie a tutti.